Bentornati sul mio canale, io sono Xadis5 e questo è un Appena Visto In questo video voglio darvi le mie considerazioni riguardo a Revenant, Re di Vivo Allora, questo film è qualcosa di incredibile, davvero un bellissimo film Allora, non è un film d'azione, nel senso che non succede, cioè, che nel senso che appunto non è un film proprio d'azione pura a tutto il film, eccetera È un film molto, diciamo, tranquillo Ma, nonostante questo, è un film che non ha noia assolutamente per niente È un film che veramente vi terrà comunque incollati alla poltrona e vi terrà appunto attenti alla storia, appunto al film C'è da dire che, tra l'altro, DiCaprio qui è veramente da Oscar Perché è stato veramente strepitoso, è stato bravissimo Quindi non c'è nulla da aggiungere su questo E penso che saremmo tutti concordi, appunto, di questa cosa Sono sicuro che a tutti quanti, anche a chi magari non è piaciuto, non piacerà questo film Sono sicuro che comunque possiate essere d'accordo con me Se dico che questo film è davvero fatto benissimo È davvero, appunto, studiato, girato e tutto quanto fatto bene nei minimi dettagli Un'altra cosa che mi è piaciuta davvero tanto È che, secondo me, questo qui non si può neanche considerare, diciamo, un film Perché ci sono davvero tante, ma tantissime, praticamente quasi in tutto il film Praticamente è quasi considerarsi un film fotografico Perché ci sono davvero tantissime inquadrature, tantissime immagini Che sono proprio da fotografia, sono proprio dei paesaggi stupendi E, appunto, ci sono certe inquadrature che veramente ti fanno Ti lasciano a bocca aperta perché, appunto, è per la bellezza del luogo Per la bellezza, appunto, della scena, dell'inquadratura, della fotografia Quindi, veramente, su questo ambito è, appunto, veramente una cosa strepitosa Quindi, poi, la storia molto bella, molto carina, molto avvincente Nonostante non sia un film, come dicevo, un film proprio d'azione Detto questo, il video direi che posso concludere qui Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo film Mettete un bel piaccio se questo video vi è piaciuto Condividetelo su tutti i vostri social network Iscrivetevi al canale per non perdere gli altri miei appena visto E vi auguro buona visione Ciao